Nel contesto del centrodestra a Corigliano Rossano si delineano progressivi cambiamenti in vista delle elezioni amministrative del 2024. Mentre i protagonisti di questa fase pre-elettorale si concentrano su programmi e progetti per il futuro della città, emerge un punto di tensione, la scelta del candidato a sindaco. Il fermento interno, seppur invisibile e tangibile, con diverse forze politiche che collaborano per costruire una proposta solida. Le discussioni riguardano temi vasti da urbanistica e sicurezza, ma un aspetto cruciale emerge il candidato a sindaco come espressione della partitocrazia distante dalla società civile. Un partito che fa riferimento alla società civile vuol dire che ha fallito, perché non ha senso fare politica in un partito per poi dover ricorrere al momento opportuno che serve il calciatore da far entrare in campo andare a prendere lo straniero. Non ha senso. Una prima rosa di nomi c'è e lo stesso Rapani non disdegna. Qualora il presidente Meloni dovesse chiamarmi e dirmi sarebbe opportuno la tua candidatura a sindaco Corregliano Rosano, chiaramente io non potrei dire di no, ma non direi assolutamente di no. Si è già in campagna elettorale, non poteva mancare una stoccata al sindaco uscente. La città non ha bisogno di un sindaco per poter bitumare una strada piuttosto che fare dell'altro. Il sindaco dovrebbe dire nella prossima campagna elettorale qual è il segnale tangibile che ha lasciato in questo territorio dopo cinque anni di amministrazione? Qual è? Si è preoccupato per caso di fare la cittadella amministrativa? Ebbè pure di soldi se ne stanno spendendo. Matteo Lauria per la CNews24